ciao a tutti ragazzi bentornati su lap 4 dead 2 è il solito video ma siamo su lap 4 dead 2 questo è più che logico questa volta per la prima volta siamo in compagnia di un nuovo di una carotina che non è mai a parte nei miei video ma questa volta sì non credo che abbia un canale non c'è topo stavolta non c'è topo ah non c'è allora è solo il suo eco che c'è che è da tre giorni che c'è il suo eco perdonato e infatti c'è questo proprio scemo quindi faremo una partita normale campagna sono come l'altro è il video che conò all'altra parte sul sacrificio e chissà chi si sacrificherà di sicuro io perché no lui sbotti lui sbotti si sacrifica sento sono paulner del 98 detto pure carotina magica oppure colatrice dipende come da punti di vista e non mi comparo perché questi qua sono miei amici da molto tempo io ho conosciuto da me e cassaro che sono io dopo lo conosco da 5 mesi non lo so ma che mesi da due anni ma si è mica due anni era era 2011 due anni fa una donna io ho fatto il mio 12 due anni fa vabbè no è la prima volta che comparo in uno dei video di carissimo luca di capo peloso ho visto il height dei video aspetta ma che ha detto che si sacrifica quindi ho sentito un attimo ho sentito un attimo se avete visto nella finale andrà a finire che si sacrificava io giustamente e zoe hai detto un attimo dopo dopo devo dire una cosa aspetta devo dire una cosa aspetta ragazzi vi ricordate l'intro che vi ho promesso di metterla in tutti i video allora per adesso non riesco a metterla in i video di red for death perché per colpa di frac che è cattivo frac che fa gli scherzi e proverò in un altro modo a metterla perché è una cosa è un po' è un po' impossibile mettere la intro guarda sto schifoso maniaco e quindi ragazzi guarda io sono il nostro canale sono un nuovo amico conosciuto su life for death oggi mi presento mi sono per un era del 98 e sono qui per catteggiare insieme agli amici fare video e molto presto avrò pure un canale insomma aspettatevi no qua non ce l'ha messo ah ma ci manca un bel hunter qua una spitter eh beh stiamo a posto no poi ragazzi è senzito come vi ho detto già nell'altro video ma Dio ma come urla Zoe se sentirete il rimbombo nel video o se si abbascia o si alza è normale perché frac fa sempre questi scherzi bene ma proprio sei un coglione ma usa Camtasia ma Camtasia modifica il video mi conta come un Camtasia non mi vado a urlare Camtasia già c'è Roma non fai video ma non riesco neanche a metterli ho fatto la intro con Camtasia io ok guarda ragazzi che popolo di youtube io sono Paulera il 98 e sono qui per carotare si ma l'hai detto già una volta si ma l'hai detto e se vuoi fare un canale youtube bla 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 e hai mai raggiosti qui e non ti metti le carote e ti metti anche gli occhi e ti metti anche gli occhi e la senti un'altra e le ti apure il strato ah dai le faccio lo stupro sono un nino di solito di solito facciamo video no di solito facciamo partite che dico Paulana rindovina che cosa diventa Bill con una katana Kill Bill Ah no che ha te lo fatti fa no esatti cioè no i cosi i mattoni quello che prendi sfogli da cavolo faccio ninja prendi spello faccio ninja faccio ninja faccio ninja faccio ninja faccio ninja faccio ninja una cosa a me ti vado facciamo faccio no no volgo ma lui di solito ci ammazziamo dai amore no ma ci ammazziamo tutti quanti aiuto ma tu è arrivato all'improvviso dopo ti ho salvato stai arrivando e no adesso però non stai arrivando stai facendo il cavolo dai stai facendo un video dai che c'è la katana è morto Luca è morto Luca questa è una cosa che dovrei assolutamente fare molti amore che ha no no è morto io gli amore neanche cinque minuti sono già morto pure la katana pure la katana madonna è morto ma tu rinasce si rinasco con la pistola rinasco con una mitraglietta scarpa è la prima volta che comparo uno dei video di Luca e tu Luca già muori ma sei un coglione è morto e il mio canale si chiama notta non è nita una katana è mia perché sono kipi kipi le scarpe fighe quello scimo di si madonna è giusto però tu neanche mi fai ma dai Luca fa niente ti vedi che remo si si può se ti prende un charge io non ti aiuto neanche un po' ma niente rimango là a guardare ehm come ho fatto io ahahah Luca ci sono... stavo dentro stavo dentro la peggiorina la peggiorina la peggiorina la peggiorina la peggiorina il suo bomba no non lo so bomba dammi la catana adesso aspetta vado a prendermi l'accetta aspetta hai salvato ti ho salvato vedi come sembra dai ti ha salvato adesso la prima domina ci sto infame ok ragazzi Luca hai respawnato perchè noi siamo gentili e non lasciamo indietro i compagni accetta ma non lasciamo indietro lui lo lasciamo indietro io l'accetto guardate guardate spiderman 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 guarda io me la sto fuggando lo dico ragazzi è un freddo stardo poi dice che non mi ha fai cajun ma poi mi frego tutti i kit medici insomma lo sclerate che ladro un altro vabbè non importa prendo un altro tubo prendo ma guarda stardo sono lo lancio ancora non è mio sono quasi arrivato è mio da più vari kit ma qua ci sono pure io vi devo dire un'ultima cosa guarda ragazzi ma non dico a voi con franzo non posso tagliare le parti sto dicendo aiutù non attenzione tico come te si puoi dare eh ma quello non fai video modifica i video quello non fai gameplay ah già non fai video secondo me è light usa campare è già è superato ma lei sono brava contro legate è da camp ma te ti ha superato poco fa ti dici che c'è un antebof poi sapete sta leggermente morendo mi ha moto super di tu no aspetta tu aspetta ti ho mi devo fregare tutti i kit medici no 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 ho già 40 ho già 40 che ti limita aspetta curati curati ti muovi ti corri io sono pure più veloce a curarmi no l'ultimo si che ce l'ho fatta che ce l'ho fatta eh poi due ciao non fa mentale però ah ragazzi potete vinta che Andrea non c'è perché lui si è sempre vista dopo si mangia le patatine al formaggio si mangia le patatine al formaggio no dai non sono buon giallo no perché che diventa il crunch 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 è da fastidio non si capisce già che ti mangi un pezzo di formaggio patatine al formaggio ma pensate mangiamo ma guarda che sono tutto primo con l'aria o non è una città facciamo un altro capitolo o i video finisce qua? facciamo un altro video la chiudi hai detto? eh vai chi hai detto facciamo un altro capitolo o i video finisce qua? no 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 continuo continuo facciamo sì forse ce la facciamo ancora fino al secondo ragazzi il video continua forse ce la facciamo ancora fino al secondo e al terzo faccio la seconda parte ok ragazzi il video continua no perché noi avevamo in mente allora fare un capitolo un capitolo un video però a quanto pare visto che dura due o poco il primo capitolo ne facciamo due però il terzo capitolo cioè se ti fico mi sa che ci ficherò io io sono Bill mi sacrifico io e ci fichiamo la prossima ma non è ancora finito? eh lo so che è ancora finito ma per me si per me si può anche sacrificare lui sbocco sono dicendo eh no 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 potrebbe potrebbe far 5 anni davanti no ma sono io Bill no ma sono io Bill no ma si sacrifica si carca sotto le notte mi sacrifico no io mi sacrifico eh vabbè poi vediamo c'è un tubo c'è un giu per il tubo a bomba forse la pistola ragazzi in questo video noi vogliamo le cose per bene prossimo capitolo mi sacrificherò io perché come tutti sanno Bill nella mappa di sacrifice si sacrifica a Bill io sono Bill ha detto pure like nel scorso video ma poi nella fine si sacrifica da Zoe e tu che hai tagliato il fulgo nel bianco mi sono sacrificato cioè la gioia ero io in poca parola ha detto ma fai lì bene sì andiamo va non vuoi più stare è che la beach la spiaggia c'è la la spiaggia la spiaggia la spiaggia la faccio mi ascolto 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 ma chi è lui oh la beach la beach la regola è il tuo trucco per amassare tutto eh ma sei troppo vicino c'è rimasta male povera povera c'è rimasta male come prima io conosco il trio no scusa per sbaglio sbaglio eh ma che senti male te luca eh oddio no si senti il nastro guarda che sono anche italiche ragazzi comunque io per uccidere la witch conosco il trucco voi dovete avere un fucile a pompa andate gli uccidere le spalle pure la moto sega si ho la moto sega fucile a pompa si ma io vi consiglio un bello fucile a pompa andate ma dopo fucile a pompa che spara un tutto pam 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 quella dicevola va bene allora voi dovete dovete andare dietro alle spalle della beach e voglio dire della witch la beach la beach la beach ormai il beach non è più witch ragazzi dovete andare dietro alle spalle della witch ma anche davanti qui è andata larga speracci tutti a parte che ci vai dietro quella che a parte che ci vai dietro quella di gira si arrabbia e sicuro cosa veramente non lo faccio male anzi io fallisco sempre ci vado davanti e mi ammazzarei ti tolgo la schiena ti tolgo la schiena ti tolgo la schiena guarda ma perché ti fai a me ti tolgo la schiena qualche corpo questo c'è un po' ti ammazzarei ma che per noi così abbiamo fatto io ho fatto voi non fate un po' ti tolgo la schiena io ho fatto ehi no il fuoco scura che parla sono kilpi madonna colpa a due no 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 ho già pochissima vita eh ho cinque quattro tre due uno non faccio more scuga me lui scurami non c'è la giuda o aspettare il nome il nome il nome che si ce l'ho fatta lo metto se ti dì aspetta faccio uno screenshot faccio uno screenshot aspetta resta qua aspetta faccio uno screenshot no 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 ora che puoi ora che puoi se ne va via il video ma io non provare sento un altro bello bello ma questo cos'è il titanic non è una barca è vero si è il titanic è il titanic è il titanic 3 è il titanic 3 il titanic 3 mi butto no io donna quello mania io pure un genio sono kilpil con la mia bella katana taglio le testa dei zombie e io sono due mortali con la massa tattica che è la massa tattica che è più bella con lui oh e non è morto è indistruttibile alla fine guarda ragazzi ricordiamo che la fortezza ci sono gli infetti no gli zombie infatti io infatti io infatti io quelli normali li chiamo zombie quelli speciali infetti è identico è identico sono le preme gusti dunque amorici ha laggato bruttamente male prima anche lei sta laggando sta laggando sta laggando un pochetto ragazzi è un pochetto 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 vorremmo scaricare team speak lo sapete ragazzi mi sa che scatta un po' youtube mi sa che scatta un po' il video io me li frego ah 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 ancora scatta a te a te è scatta ancora aiuto 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 ragazzi no maledetto lui stavo a morire dalle carote io finisco il video perchè non ci vediamo nella seconda parte è